ciao ragazzi bentornati questo un video veramente interessante come tutti gli altri insieme a voi che siete super tecnicamente fantastici apertura del video dedicata agli utenti a questo canale che sempre solo dalla parte degli utenti videogameconsole.it sei stato il primo a rispondere alle migliori applicazioni ciao tra l'altro ho visto che tante volte hai provato ad essere il primo e non ce la facevi per poco ti meritavi videogameconsole.it questo è il nome del tuo il tuo nickname su youtube ti saluta il primo che risponderà al commento più veloce in questo video verrà salutato così esplicitamente nel prossimo poi sempre i premi in agguato quindi sempre pronti grazie come sempre dei like delle iscrizioni continuate così like campanellina iscrizione per ricevere sempre l'anteprima la verità l'imparzialità su questo canale che sempre dalla parte degli utenti argomenti di tecnologia recensioni rubriche sempre nel segno della chiarezza il più possibile il più possibile allora un argomento sicuramente che sotto gli occhi di tutti che non può non essere visto è una concorrenza serie da una parte un operatore che continua a guadagnare consensi iliad che se ne va vola via nel senso che continua a guadagnare grazie anche una concorrenza che non si organizza che non c'è io penso che sia sotto gli occhi di tutti questa situazione ormai palese ci sono tre operatori barra sei poi si sono organizzati con operatori virtuali giustamente per tentare di contrastare questo fenomeno questo momento particolarissimo degli operatori mobili in italia mai successo che un operatore straniero arrivava creava una rivoluzione mettesse delle operatività nuove tecnologiche innovative come le simbox come altre cose mosse semplici ma che hanno fatto scacco matto alla concorrenza questo un po dovuto alla poca e diciamo un po sottovalutare l'avversario cioè un po gli operatori nostri hanno sottovalutato forse l'arrivo di il non si sono preparati adeguatamente forse il ed è troppo più avanti in questo momento in certe idee rispetto a loro che hanno fossilizzato le loro idee per anni facendola da padrone ovviamente nel nostro paese con le loro tariffe facendo cartello diciamo in questo momento non sono non erano pronti a questo arrivo ma prima o poi le cose nella vita possono cambiare bisogna essere sempre pronte volverse guardare avanti perché perché partiamo da team per dire allora team sta provando a fare una concorrenza ad iliad con un operatore virtuale che kena perché quanto possa essere valido a parte che è un operatore che viaggia ancora in 3g e non ancora 4g è un operatore virtuale che voi come sapete e lo dico e poi sono dati di fatto ha sempre un'importanza secondaria rispetto ad un operatore primario anche con la rete stessa l'abbiamo già visto nelle tariffe anche di o mobile quindi poi si riscontrano queste differenze quindi non puoi tentare di andare a contrastare solo facendo un prezzo vicino che poi con il bundle comunque iliad è sempre meno cara anche oltre ad essere un operatore fisico io li chiamo così diciamo non è un operatore virtuale mentre con un operatore virtuale tu tenti solo col prezzo di fare una concorrenza che si può limitare un pochino i danni si può far circolare i clienti all'interno della tua compagnia senza far riuscire o rientrare qualcuno ma non basta è un palliativo è un qualcosa che poi va anche a togliere magari al tuo stesso operatore a parte che le portabilità poi le fai non le fai fare un qualcosa no e di conseguenza diciamo una concorrenza buttata su un operatore virtuale ma non col tuo primo marchio perché come primo marchio dopo live and server go che aveva fatto il team che adesso non è neanche più attivabile quella dei che ne avevamo parlato con i minuti limitati con i giga che comunque alla fine costava di più 7 euro circa altre tariffe 10 euro 50 giga e mille minuti ma siamo più cari abbiamo solo 10 giga in più non abbiamo i minuti limitati quindi diciamo un operatore come team che col suo primo marchio butta fuori diciamo una tariffa e mezzo ma che non ha tanto significato non riesce a fare concorrenza lì perché il prezzo evidentemente più alto non è efficace e poi c'è ancora questa poca trasparenza questa poca fiducia da parte degli utenti soprattutto visto che poi c'erano anche dei vincoletti ancora sui 20 mesi sul discorso del live and se vengo e di conseguenza un po questo un po il fatto del prezzo che più alto un po il fatto che kena va a mischiare le carte insomma un rimescolamento continuo che alla fine porta in esposizione kena da sola come operatore virtuale a tentare di fare un po la guerra col prezzo e questo ha portato ovviamente a una concorrenza sterile il marchio principale non si fa sentire non ha peso voi lo notate questo verso il non ce l'ha e chiaramente gli utenti poi fanno la portabilità piuttosto quelli di team piuttosto vanno anche in mobile per dire verso un altro operatore virtuale oppure escono vanno poi in kena cioè capita eludendo sempre il marchio team entrando dentro la famiglia del virtuale o vanno verso altri virtuali vanno verso in iliad perché comunque manca questa concorrenza quindi team assolutamente deve darsi una mossa ma soprattutto col primo marchio male con kena tenta tenta di fare della concorrenza ma con un operatore comunque virtuale che capite non può reggere il peso di una battaglia verso il vodafone ancora peggio come come marchio principale diciamo col suo marchio vodafone fisico le tariffe sono state rimodulate aumenti di 2 euro comunque mille minuti 40 50 giga sempre sui 10 euro comunque tariffe che non sanno né di me né di te simile a quelli di team comunque con 3 euro in più di quello che sono gli operatori virtuali iliad ok la rete la rete tutto quello che volete però se poi all'interno della stessa compagnia hanno degli operatori virtuali che possono dare diciamo l'appoggio sulla stessa rete con delle limitazioni tanto poi la rete più non è capite se poi in tantissime zone il prende bene uno se ne frega si fa il capite che poi sta migliorando sta ampliando mi continuate a chiedere si sta facendo degli accordi per usare i siti con in wheat sta per organizzarsi per accendere le proprie antenne siamo a due mesi e mezzo vedrete che nel giro di un po di mesi avrà una rete strutturata più completa con più copertura senza errori di chiamate in 4g tutto piano piano ci sono molte zone che mi vengono segnalate dagli utenti che sono migliorate che si riceve bene le chiamate che si naviga in 4g in 4g plus senza problemi altre che hanno ancora dei problemi ma i tasselli si stanno componendo figuriamoci quando la rete sarà completa e strutturata chiaramente dicevo di vodafone anche qua lancio mobile tenta di fare la concorrenza il con la 6 99 poi esce con una tariffa orribile la 7 99 che è assolutamente bocciate flop assolutamente riconosciuto da tutti quindi neanche con l'operatore virtuale riuscito poi a rispondere in seconda battuta con il marchio primario li fermo ad aspettare che gli eventi diano una mano usando anche lì operatore virtuale per mandare davanti un po la concorrenza al prezzo ma anche qui non vedo un'organizzazione non pesa non pesa non c'è un marketing preciso un'offerta bella che può essere concorrenza verso lì di un'innovazione un'idea un'idea non sono domani un'idea di vodafone domani mettere fuori dei propri punti dei propri store no magari una promozione particolare per gli utenti che provengono da Iliad da team ma un'operazione ad hoc fatta bene magari non far pagare il costo di attivazione della sim per entrare dentro darti 40 giga magari non so fare delle tariffe dati con la notte limitata a prezzi più bassi che possono essere concorrenziali fare delle io lo so che fare una simbox è difficile fare qualcosa di automatizzato simile alle simbox nel breve tempo per dare un servizio fuori dagli store c'è inventate di qualcosa no voglio dire bisogna andare avanti non vedo questo vedo lì 10 euro ti do i 40 giga in mille minuti dai che andiamo vicini poi alla fine sono più cari metto fuori un mobile con una tariffa poi ne faccio un'altra c'è un casino no praticamente intanto quelli la fanno una tariffa 6 99 continuano a guadagnare clienti poi passiamo a 3 wind qui il disastro totale sapete due milioni e mezzo di clienti circa persi non c'è una reazione la fusione oramai porterà wind forse poi affondere direttamente il suo marco con 3 quindi anche qua oramai wind sponsorizza poco le sue tariffe perché sta unificandosi completamente con h3g qui e questo connubio quest'unione ha portato un peggioramento della situazione perché le idee sono più confuse perché l'unione non è stata subito lampante e i marketing delle due aziende forse non si sono accordati subito per come reagire verso la concorrenza cioè io vedo proprio qua fermi ragazzi wind che oramai punta solo entrare in 3 e non si saprà se andrà avanti col suo marchio nostro sarà una fusione oramai è completa di conseguenza le tariffe devono essere quelle di 3 oppure sono ancora suddivise comunque poco marketing tariffi un po copiazzate qua e là non vedo la rete quello che è ovviamente lo ripeto tanti mi hanno detto ma la rete quella cosa io lo so benissimo che in run sharing iliad va su wind lo so benissimo e infatti non è una rete eccellente quella di iliad ad oggi ancora perché quando va in run sharing in certe zone bene 4g 4g plus in altre come wind ovviamente appoggiandosi su in non è ancora al top per quello che sta accendendo le proprie antenne per quello che ha comprato i siti con in with per quello che lascerà wind fuori dei piedi e se andrà con la propria rete a breve è già io vedo dei miglioramenti già io vedo in dei punti dove prima non prendeva bene prendere di più quindi non riesco a capire se questo miglioramento di wind o sono le proprie antenne in prova di accensione perché tutto misterioso quindi tanti mi segnalano queste pseudo prove può darsi che certi siti anche se io so che le antenne di iliad sono ancora spente che ci sia qualche prova a milano è stato detto poi io non so se già le hanno accese da qualche parte e prendiamo magari già qualcosa di meglio no sicuramente la rete discreto buona di wind non può superire comunque alle reti di team di vodafone e quindi di conseguenza se fai un prezzo c'è iliad che poi ha un prezzo bassissimo non sei concorrenziale tra l'altro ti stai fondendo con tre quindi è un marketing oramai che non ha più delle idee chiare perché deve fondersi con l'altro tre non ne parliamo insomma tariffe ferme lì nessuna idea è ancora una play 30 che va a 5 euro coi 30 giga e i mille minuti ma ragazzi ma ma basta chiena per fare una tariffa migliore di questa qua tra l'altro 5 euro per avere mille minuti neanche un sms i 30 giga quando gli altri vengono a 40 50 insomma non sono tariffe c'è il cartellino fuori dal dai totem così morto che non ha non c'è un'idea non c'è li vedi anche i depressi gli stessi dipendenti che lavorano dentro li vedo proprio in faccia non c'è sono lì che stanno aspettando di perdere 500 mila clienti al mese quello che vi avevo detto che un attimo andare giù è un attimo poi io spero di no però quasi 3 milioni sono tanti come quasi un milione e mezzo ilia di ci sarà quasi arrivata ci sarà quasi arrivata non non siamo lontani tanti mi chiedono quando sarà possibile passare dalla tariffa da 5 99 6 99 penso prima di fine mese potrebbe essere il 27 il 28 agosto il giorno in cui verrà attivata la tariffa quindi tra il 25 il 28 di agosto quindi dopo il 20 di agosto diciamo il periodo che va dal 20 al 28 quegli otto giorni lì è quello che so io i miei le mie news parlano di di questa data poi più o meno insomma era stato detto 23 settimane circa una settimana fa quindi dovremmo essere a 15 giorni dal passaggio il passaggio si farà gratuitamente per sempre si passerà alla tariffa da 6 99 saranno in arrivo nuove tariffe sicuramente c'era un upgrade magari di quella di 6 99 che potrà aggiungere qualcosa con un prezzo più alto magari ci sarà qualcosa sotto i 5 euro con dei bandoli inferiori che magari possono andare bene per gli utenti medi che hanno magari un'esigenza inferiore di basta quindi questo poi quando il momento dell'uscita delle tariffe io arrivo con le mie previsioni e voi lo sapete quindi che dire appunto questo questa track è comunque tira dentro wind e la tira proprio male nel senso che non vedo qui vedo veramente depressione demotivazioni tariffe ferme nessuna news nessuna innovazione vivono sperando che gli altri sbaglino qualche mossa a sto punto almeno che non si attivino che non vengano fuori tariffe nuove tutto è fattibile non è che sono falliti è due milioni e mezzo di clienti sono tanti ma non è che hanno chiuso l'azienda si può ancora fare benissimo bene basta mettersi a lavorare con con ritegno bene insomma in questo momento l'azienda più in difficoltà sono quindi h3g assolutamente quelle che patiscono di più la situazione ma anche gli altri due poi c'è un operatore idate cosa volete ha fatto due tariffe e ha quasi un milione e mezzo di clienti e dice ma la vita è semplice a volte sì prima 5 99 poi 6 99 scacco matto cioè innovazione si inbox pochi fronzoli chiaro uno spot in tv semplice chiaro i suoi difetti sui limiti la banda ancora la ricezione essendo il run sharing non è al cento per cento non puoi pretendere in due mesi di avere ancora la rete di team e wii e di vodafone si sa già che qualcuno magari ha provato a fare la porta io so di gente che già ritornate in illia dopo che uscita basta tanti nonostante tutto quindi ci sta come qualcuno avrà sicuramente tante sono avranno provato a uscire andare magari no in kena tornare in tempo e ritornare indietro insomma è il gioco è il gioco delle parti però è guada io vedo semplice inbox piene piene di gente continuano attivare sim tanti attivano come secondo numero come primo numero quindi sicuramente l'uscita è minore le entrate molto maggiori poi ci sta che uno esca poi dico ritornano anche indietro perché poi da è vero anche il discorso che sparita la tariffa da 5 99 dal sito normale vendono quella da 6 99 non hanno magari comunicato subito che quella da 5 99 era disponibile dopo un po però per 50 mila cliente ancora disponiamo ancora della tariffa da 5 99 boh mi sembra abbastanza chiaro e poi hanno proposto quella da 6 99 dicendo potrete poi passare se volete a quella da 6 99 ma chi va a quella da 5 99 ce l'ha per sempre basta non c'è bisogno di tenerla ancora lì fuori sul sito poi voi passare alla 6 99 ci passerai se vuoi farla in cui 50 mila clienti che possono ancora attivare la 5 99 l'attivi adesso non so se c'è ancora non mi pare forse hanno già finito il bandolo e quindi mi pare che sia una cosa abbastanza semplice chiara e la metodologia che si è scatenata intorno a questo meccanismo innovativo della simbox della chiarezza ha portato questo successo al momento questa concorrenza che manca dall'altra parte perché si vede proprio che manca c'è un operatore che continua a guadagnare consensi sim e attivazione gli altri che arrancano tentano di recuperare o gli stessi clienti con l'operatore virtuale girano dentro oppure continuano a guadagnare sull'operatore virtuale ma perdere su quello principale che è la cosa peggiore no guadagnare dai loro stessi clienti o qualcosa anche da quelli fuori team 3 o da il però non basta no quindi se è acceso questo meccanismo tento di fare il prezzo con quei due operatori virtuali verso il ed io continuo a fare le mie tariffe sperando che la gente premi la mia rete la gente preme anche il denaro che deve tirar fuori e se c'è una rete buona valida sufficiente discreta che ti permette di essere coperto e spendi meno è delle tariffe valide per sempre hai semplicità e immediatezza la gente va a fare ovviamente l'operatore nuovo più fresco con più innovazione è normale questo è semplice poi è chiaro che che gli altri operatori non sono fessi voglio dire ci sono sono le hanno le potenzialità per fare meglio sicuramente la concorrenza deve darsi una svegliata sono quasi prospetta tra un anno veramente qualcosa di importante si potrebbero vedere milioni di clienti persi dagli altri operatori guadagnati dai due e mezzo da già persi tre ma io non mi meraviglierei avanti di questo passo se tra un anno circa ne hanno persi tre milioni a testa anche i team e vodafone qualcosa ancora qualche milioni ancora tre se le presiglie non mi meraviglierei detto questo la 4k i tech e tutto ci vediamo alle prossime siete super tecnicamente fantastici attenzione di nuovo nuove rubriche attenzione in arrivo anche un tutorial su tutte le applicazioni di ilia per andare a fare l'area personale perché me l'avete chiesto in tanti se la volete di team la facciamo di team se la volete di vodafone la facciamo di vodafone se la volete di qualsiasi altro operatore virtuale la facciamo non ci sono per me voi chiedete nel limite possibile vi rispondo sempre ciao e grazie alle prossime ciao